E' bello a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Lennox e oggi siamo qui con il quarto episodio di Pokemon Rumble Rush Ok, nello scorso video siamo andati a battere gli ultimi due super boss, ovvero Charmeleon e Raichu E abbiamo sbloccato anche le gare che andremo a fare adesso, comunque vi ricordate che vi lascerò il primo e il secondo e il terzo video qui sotto in descrizione Ed è il seguito di andare a vedere, quindi eliminatori primo round, andiamo Ok, quindi prima abbiamo un Psyduck e poi un Raticate, c'è questo Raticate con un Psyduck Quindi, aspetta, chiudo di cambiare anche il Pokemon, anche di mettere un Pokemon di tipo erba Quindi, no, i Visaur ce l'avevo, no, mi sa che non ce l'avevo i Visaur Ma il mio unico Pokemon di tipo erba più potente è Bulbasaur, quanto è Bulbasaur? No, no, è Gloom, devi usare Gloom Aumentarli, mettergli il kit attacco e mettergli anche un bel attacco plus Sì Così l'abbiamo potenziato, non tanto ma almeno un bel po' l'abbiamo potenziato E andiamo a fare un'operta, però ho dimenticato di sceglierla, che pirla Quindi dove sta Gloom? Eccolo qui Mettiamo anche 3 Psyduck, non so perchè non sono 3 Psyduck, quindi vai, scegli, Gara, Emiatorio, Lotta Ok Bello Psyduck Non male Quindi subito con un mega assorbimento andiamo a fare fuori tutti gli altri Andiamo ad usare Rattata E una bella mossa caricata che dovremmo farlo fuori al primo colpo, no? No scherzavo, 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 scherzavo Dai forza, una bella mossa caricata Oh, ci sta facendo male però, eh Ci sta facendo, devo dire che ci sta facendo un po' male E la Madonna Oh, cominciano ad esserci troppi Psyduck per me No, ci sono troppi Ok, grazie Rattata Grazie Rattata No, io vado a veloce Che l'ho quasi fatto fuori Manca poco, manca poco Oddio raga Cioè, mai sottobautare l'avversario Questo Psyduck era leggermente bello potente E adesso Starmi Sì, però non poteva esserci Starmi come suo Cioè, aiutante, ma per forza Ma devo cambiare Pokémon Chi metto adesso? Woody e Bulbasaur Scegli Dai con Bulbasaur Ah, quindi posso usare tutti i Pokémon Ok, molto, molto Utile Vabbè, è impossibile Se sei secondi farlo fuori Due, uno Che è successo? No, eh Tempo scaduto Starmi se ne è andato Quindi Non l'ho passato a divinatore Rieccoti qua Dato che hai perso Ah, perso Parte a una gara È giunta l'ora di dare il via All'avventura Alla tua avventura Nel vero senso della parola Andiamo a esplorare una nuova area Sono sicuro che Vi troverai Nuovi Pokémon E Potere Kit Chissà quali entusiasmanti incontri Ti aspettano Allora Si parte Ok ragazzi La prima gara è andata Veramente una schifezza Bella l'animazione Mare Charizard Ma bellissima Comunque Ecco l'area Mare Charizard In quest'area Sono stati avvistati Venusaur, Blastoise e Charizard Questa cosa mi piace Tantissimo Io ho assolutamente Un Charizard Quindi E la madonna Il primo boss da battere È Vabbè Questa è l'area Mare Charizard Anche qui potrai Per prima cosa Usare le Piume Esploratore Per trovare un livello Per evitare Di coinvolgere Pokémon Provenienti Da altre aree Ti chiederò Di esplorare Quest'area Solo con Pokémon Del posto Perciò Ti insegnerò Ti assegnerò Pokémon Che potrai Lottare Qui Ok Che Ah Dimenticavo Nella gara Nella gara Potrai lottare Con qualsiasi Pokémon Se riesci a Acchiapparne Un Pokémon Potente Andalo Oppure in campo Ok Quindi vuol dire Che adesso Non ho neanche Un Pokémon Ok Ce ne sta un bel po' Possiamo trovare Magmar Un Eevee Un Venomot Un Kakuna Kingler E Sono tutte molto Interessanti Però Io vorrei Magari Un Eevee Vediamo un po' Bosco Growlet Di D Dxt Of Flamingo Ok Anche se io volevo Eevee Comunque Mi va bene anche Growlet Quindi Ah Ecco Volevo Eevee Desiderio Quotetato Comunque No Belli Sandslash E ne ho anche Già preso Uno Anzi Due Charmander Ciao Scusate E addio E abbiamo preso Anche un altro Charmander Via 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 Mori Schietta Anche tu Sandslash Ok Schietta 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 Anche tu Anche tu Quanto manca Per arrivare Da Growlet Non ci faccio più Eccolo E la madonna Sembra Simba Ah Zvenna Ok Dimenticate L'ultima parte Comunque Veramente Sembra Simba Insieme Abbiamo anche Diglett Che sembrano Di cioccolatini E' vero Cioè guardateli Comunque Mossa caricata Azione Ok abbiamo Catturato anche Un Diglett Io però Voglio catturare Anche Graulet Ti prego Dammi Graulet Ok Sconfitto Graulet Hai vinto Un minuto E 0,7 Secondi Quindi Adesso Abbiamo Sandslash Nuovo Sandslash Charmander Diglett E 55 monete Ok Molte Molto Molto bene Quindi Primo No che primo Non mi ha ancora Battuto niente Quali sono i requisiti Ok Possiamo già andare A lottare Con il primo boss Di questa isola Ovvero Tonita Quindi Lotta Un pokemon Con 95pl O meno Potrebbe non farci Vuoi continuare A lottare Con questo pokemon Sì Va bene Sì Dai Vediamo se Ciò posso fare Con questo Tonita 60 secondi A partire da adesso Però di presenza Via Ok Molto bello Tonita Vediamo se Riesco a fare Un attacco caricato Quanto Dando l'infliggo Non tanto Mi sto facendo fuori Ok Continuo ad attaccare Non capisco Più niente Cavoli Sono già Metà della vita Devi cambiare pokemon Ah cacchio Posso usare Solo i pokemon Di queste isole Vero No Allora niente Andiamo un po' Raga dai Ci posso fare Cambio 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 Vai Mettiamo di glit Anche se Beh Però di glit Un po' Con il tipo Terra E quindi Terra Dovrebbe essere Super efficace Con il fuoco Infatti Battiterra E' fatto fuori Tutti i charmander Prima che potesse Spawnarli E Ponita Fatto fuori L'abbiamo catturato Non lo so Non l'ho visto Mi sa di no Però mi ha preso Una piuma esploratore Molto bene Bravo Diglet Bravo anche Evi E andiamo avanti Quanto Sto leggendo Ok 54 Pugnete 52 Pugnete E ora Il prossimo boss E Metapod Metapod Ok Va bene Quindi Con aver battuto Me Ok Sprocchiamo solamente Ponita Va bene Ragazzi No Ok Non scherzavo Andiamo a battere Ok I requisiti Sono cattura Almeno 4 specie Di pokemon In quest'area E Prepar No Preparo Un pokemon Con almeno 915 PL In questa area Ok Allora Vediamo un po' Quindi Chiudi O sotto Cioè Torno alla mia schermata Vero? O perdono Ho detto che Il negozio è stato Adesso disponibile Nel negozio puoi comprare pochi diamanti E altri Vediamo poi Dove sta il negozio? Tocca menu Ok No aspetta Non ho letto No vabbè Ormai non ho letto niente Ok Ok menu Andiamo a vedere Andiamo a vedere il negozio Ah Interessante Aspetta Però stavo leggendo Regali Non ci sono regali Grazie Comunque Allora Stavo dicendo Pokemon Pokemon In quest'area Possiamo usare Se faccio così Tutti Quindi faccio vedere Solo Pronti Ok Ma il bello Che io posso usare Tipo i power kit Si posso usare I power kit Delle altre isole E vediamo se posso usare Anche ok Di adegna un bel Attacco Plus Per aumentare L'attacco Ma solo di No cacchio no Questo non è un po' più forte Se slash Dovrebbe essere più forte Se gli do il power kit E si power kit L'attacco plus Cioè con questo power kit Siamo solo di 10 Mammaggia Allora dobbiamo per forza Scegliere Dobbiamo per forza Andare con un altro Esplora E andiamo A combattere Contro Metap Ah no Posso andare a combattere Contro metap Mi serve uno Andiamo a andare Andiamo Allora andiamo In esplorazione Di un bel magmar Ho cliccato Giusto bene Sì Ok Grotta magmar Di Little Lemieux Fantastico Ok Quindi possiamo usarlo Contro metapod E altri pokemon Magari tipo Erba O coleottero In futuro Lì No Quello lì È gigantesco Quel diglet Lì A sinistra Quindi Adora Ti apri un altro Diglet Qua Ho fatto fuori Dai Dai Forza Ok Questa parte È un po' Lentina Devo dire Facciamo una cosa Prima che mi addormento Ok ragazzi Prima che mi addormentavo Ho cambiato un pokemon Così almeno con diglet Molto più dolci E quindi Ecco Mac Ma anche Lucornuto Quindi fa compagnia A Wartortle È un po' Una mossa caricata Graffio E schiatta Facilmente Oh Calmati Fatto Fuori Magmar Vediamo se riesco a catturarlo No Però Mi dà Un altro minerale Che scommetto Che ci dovrà De rubare Magnamite Quindi Allora Abbiamo Diglet 5 biocoti Piuma E un minerale Rubato da Magnamite Ok Grazie Magnamite Per il tuo supporto Andiamo A 30 minuti Ah Eh Vabbè Facciamo Dai usiamo Un Biglietto E Acqua Plus Fuoco Plus E 500 Ok Non userò più i biglietti Perché potrebbero servirmi Anche in futuro E quindi Direi subito Di andare a potenziare Un Pokémon C'è un miglior Il Pokémon più forte che ho Diglet Che Non è potenziato Da nessun Power Attacco Plus O Power Kit Prendiamo Dai Sì A Diglet E poi diamo anche Questo qui Che dovrebbe diventare più forte Ah no 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 Sono con il Power Kit Attacco Cambia Sono con il Power Power Perché Power Kit Attacco Con l'attacco Plus Mi Sto Power Kit Lasciamo stare 1001 A me serve 115 Vabbè ragazzi Direi di Finire qui col video Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Iscriviti al canale Non dimenticare di condividere questo video Con i tuoi amici E anche di Attivare la campagna Dei notifiche E noi ci vediamo Con un prossimo video Quindi Ciao Ciao